ah tanto dai finitos sarebbe stupido alla fine per risparmiare energia appena dico io partiamo posso muovermi non sapevo di poter saltare ma sei un idiota allora via via partite in ritardo e vai sei tu partite in ritardo la sua visuale si vede assorta quindi mi dispiace non posso farci niente è la sua capture device che fa schifo ah mi pare una bella idea sorfatelo eh si verde la speranza mai si perde invece rosso sangue morte comunque direi di partire al primo livello insieme dato che siamo sinistri di sì di sincronizzare storia super duper richiest giambi 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 la pizza è pronta in tavola a me si vede meglio magari perché picco e più colorato me tutti ti feranno me il topina col fa schifo la mia capture device e uber pro ma la mia super colorata io che tipo me stesso devo mettermi vada sono già verde yes io io sono tu io tifo io tifo me stesso sì devi metterti rosso rosso ok vediamo se funge funge si funge scritto fungiu 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 grazie grazie trofagenti chi ti fa arancione invece non ti fa nessuno maria 98 10 non ti fa nessuno che partiamo al primo livello insieme se metto l'audio non lo metto l'audio piana delle chiama delle chiande ok 3 2 1 let's go ok ok spero che sì sì siamo più o meno sincronizzati tanto mu muoio you suck no no le perdite sono con c'è sono concesse però non puoi rifare da capo di continuare così ah ah tanto ci sta la bandiera quindi non mi serve il fungo il power up più bello oh che combo mi spiace se non leggeremo spesso la chat ah ah ho sbagliato no oh you ah ho perso il ricordo mondiale è 44 minuti mi pare noi non teniamo a fare il ragazzo superate oppure la acorna no vabbè tu imbrogli no secondi uber s dai parti partita spi se si blocco un po' è normale stiamo parlando su skype eh è chiaro no man mi sta devastando vabbè tanto lui fail dopo si dove prendere fuoco ho perso ho perso ho perso no dai siamo all'inizio tribio perderò nella giungla nella giungla oh no odio questo punto odio poi ti ricordo che dobbiamo fare un livello d'acqua che è quello tra i due l'acqua è sexy l'acqua è così fresca mai come la pizza colazione adoro la pizza colazione tu io la pizzeria e laic pizza partite berth s o ma non sono bene io che sto facendo meglio camara ok come si faceva kribb ha dimenticato ah ecco si idiota 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 ah finis sto dicendo yes ah yes dove doveva andare mettetemi in rosso mi raccomando no in verde così fate una brutta figura camara dove doveva andare sai che sei andato anche tu nooo ho vinto faccio aiubo come on livello d'acqua doveva andare forza mettetevi tutti in verde non voglio gente che ti fa per me se no perdo no dai fate quello che volete grazie mario 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 98 13 mario mario tanto ti supero derp come no i livelli da tu tu fai schifo me la caverò l'importante è eh 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 ma arriva i rumori ah e sott'acqua se non sembrava sott'acqua bello che sarà ancora tutti verde è chiaro ma a me non piace la gente mi piace vedere mi piace vedere mi piace vedere mi piace vedere io dove voglio arrivare con sta cosa ah stupido spero di non dover uscire perchè sennò ah dai raccogliere monete mario che è impossibile questo punto veloce 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 si ok era possibile il giard quale gamer tv non è possibile non lo sarei mai aspettato ok andiamo con le monete rosse vabbè ho capito dannati blooper land cooper blooper dai colpiscimi così sono invincibile e che mi ha colpito a non non pensavo io ero ma non è finito il livello mi sembrava troppo uber poco uber ti prego ti prego ok non pare che s si signore da qui potete vedere che tutti i miei commenti erano senza pensati che dai vai 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 ok me la sto cavando anello rosso mi serve livello completato io sono in blu matti info gamer land eh grazie sto vincendo dai tanto ho recuperato un po ecco tu non ti sei fatto colpire dal grupper blooper finito non blooper 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 rompi palle yes quello che io sto guardandolo 3 ah... corri cavolo corri eh che ti poi se il giorno mi prenderanno per pazzo sicuro a me oh bene si ok ca ha se Academy states non voglio perdere non voglio perdere i Christian vizier su la parада accountability stupido vento mori morisci non è giusto giungla dei giganti fuck you s s s cosa ridi cosa ho finalmente vento scudadini che non facessero lo stimo che sto sto supermano stai vincerebbe lui anche se non ci ho mai giocato danny sconsolo my gosh giungla dei giganti c'è uno speedrun alla gigante mega speedrun c'è un po' di mani ma vediamo lui dove sta si sta creando la strada non è tanto di superco sto che si vede in ritardo con streaming wow che combo bellissima oh alleluia andiamo 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 a mano non mi interessa un cavolo del mini vero tanto non diamine le cose che danno fastidio devi vedremo che viene ahahah che c'è in tutti si salvo basta che sei contento sono molto ora recupero come no tu sei più pro nei livelli non d'acqua cioè io sono più pro nei livelli non d'acqua mi sono distratto a guardare lo schermo dani imbroglia me l'hai fatto apposto c'è io sì cioè vabbè lasciamo stare vabbè tanto non è un stato raggiunto il checkpoint grazie danis console proprio gentilissimo la mia console non ti fa per me ci spero che vinca gay merlin mi fate distrarre però non importa tanto sappiamo già chi vince s importante divertirsi ma dobbiamo fare anche il mondo star no fino a bowser a parte perchè comprenderemo nessuna superstella è stupido caso sarebbe stato bello fare fino alla ondo a due livelli s gomba non ci credo compare nebbit e todt che vittima stai al mondo dei giganti a livello non mi sto bloccando no è morto il sito è morto chiesto la pianta bilagna non è giusto devo stare più attenti ero così affezionato a quelle cose mario 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 faccio fare a te ok ora faccio giusto già mi lascio fare a te do you remember ok 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 prendiamo un livello a caso ponti sull'acqua velenosa mi sa che ho scelto male no forse no ok non devo fare questo bellissimo questo livello vabbè dai subisco da non mi interessi yes la ghianda finalmente finalmente posso anche io cittare petro 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 jami zio bello petro jami zio bello petro petro jami zio bello inventate sul momento dell'azienda così usac let's si o no non ci credo voglio che questo questo è una cosa che non riuscire mai a fare vabbè io sto muore ok mori 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 no auto ansi se tieni il conto dei fail non finirai mai più fidati tanto a me ne vedrai gamerland 100 di gamer danni 3 4 4 ma penso che mi avevi raggiunto ecco ora la scena uber toad si in alto stupido toad che mi dà l'oggetto vabbè un fungo il mio oggetto preferito vero si perchè non è uber non ho imposto subito sono così intrigato per sfottarti e dire ah 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 oppure posto su comunque lo sai che hai sbagliato ma non te lo sto a dire si sicuro mi si vede no 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 non hai sbagliato perchè se vai dall'altra parte no no scherzavo eh penso che in questo livello ci sia uno scorciatoio sono sicuro no no questo livello tu lo odiavi quindi sicuro io lo adoro i mega rampini stavo dimenticando che che dobbiamo fare l'uscita segreta della cosa non della giungla eh vabbè io non me la ricordo mi ricordo solo quella del primo mondo quindi infatti il tito ti volevo consigliare di fare l'uscita segreta la quella che si trova in livello che sto facendo adesso con tutti quei livelli fail che fai non importa io faccio perdo tempo con la torre purtroppo ma è impossibile che fortuna diamine perchè questo ho perso penso che ho perso penso che ho perso ok uscita segreta vero? se no non è vero non hai preso l'uscita segreta no perchè mi sono ricordato che per che per che devo per forza andare di qua se no non posso andare nella giungla maledetta ma nella giungla maledetta si perde tempo come che si chiamano sti cosi rampini no eh la giungla maledetta è obbligatorio guarda davvero aha come l'uscita segreta è la perchè sono così così land ah l'uscita segreta beh sono morto ne son sicuro e se non muoio sono super figlio ah l'uscita segreta che ti zompi due mondi e mezzo io pensavo l'uscita segreta per saltarlo sei morto? no perchè sono bravo ah tanto questo serpentone è lunghissimo non me ne ero mai accorto super spiglio un po' boss non ho preso il fungo ben perso yes mi ricordo che qui boom boom e uber e non ho preso nemmeno la via di mezzo se quindi doppio yes per te se fello triplo anzi io ho fatto devo non posso dare ok ok leggo l'ultimo messaggio ma non posso leggere mario no 8 13 perché è possibile bene scopo 8 con l'immagine di boom 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 go go godobichi l'avete visto ok sono l'amza anche lei sono morto ho perso godo ho perso ho perso per vabbè non per sempre Non per sempre sì, perché ci sta un punto in cui potrei rimontare Ma sai quanto è bellissimo rifarsi tutta sta torre Visto che non ho preso nemmeno il checkpoint Eh, sei stupido Quando si è troppo sicuri delle proprie abilità Fuck the ass Non mi devo distrarre Se mi distrago è peggio Allora Io devo pensare Alla frutta Ss, Yoshi Yes, Icon Oh no, sto morendo Aha, you suck Allora, dopo questo si passa direttamente al mondo 7 se non erro Ok, vediamo Boom Boom Ui, io ho l'uscita segreta Boom Boom, spero che Boom Boom Non far sia cattivo Dai, 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 so che esce bandiera Eh, che citer Con la Dianda del cacchio Io l'ho avuta su uno scusa Ok Vabbè, tanto Il prossimo console cara, Gamerland è indietro Io sono avanti Quindi Vincerò io No, non avrò Yes Sarà super divertente Chiunque vince per Bla 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 Mi rilasso un po' le mani Le braccia in cambio posizione Ok Dai, dai Dove va? È impossibile sto livello Odio Dai che stai perdendo Si, sto perdendo, tu stai già, oh mamma mia, stai Dopo l'animazione di Bowser Eh, mi sono rilassato Ok Mi suderò ancora un po' le mani però Bene Eh, la via segreta, la via segreta, la via segreta Ok, vai La via segreta, la via segreta Dai, se lui non si ricorda la via Anche se sta già nel livello da mezz'ora Io Non sono nemmeno al boss È giusto Vabbè, a parte che non posso rientrare Allora, intanto vi intratterò Con la mia canzone La mia canzone si chiama Il mio amico Eh Boom boom Ah, è facilissimo con la ghianda Cheating Battuto Beh, io l'ho avuta Ti ricordo che Ah, sei là? Pensavo che ti riferivi a me You suck Non hai preso l'uscita No, non è vero Aspetta Vabbè, io tengo una mezza cazzi Da vedere S Cioè, tu stai In poche parole Mario Stiamo Sotto Speriamo che perda Dani Porti Ti porti sfiga Se parli così Perdi Gamerland So che sei meglio di Dani Quindi vinci Dani sconsolo Sì, vabbè, ce la farò A trovare la via Però Io so dove Lo sono ricordatore Dai Non voglio salvare Quanto intelligente il computer Cosa c'è Ok Oh bene C'è la testa di lei Dall'input Quindi tu non sai dove L'uscita Se hai attivato il Miiverse Io sì You suck Vediamo Io sto andando a caso Sto livello impossibile Non è possibile Mi ha devastato questo Questo Non ci credo Vieni qui Vieni Ok Ok No, impossibile Lui sta All'uscita segreta Ah, non c'è Mi sono perso io Ah, ecco Ok Grazie Ah, bene Ce l'hai fatta Oh, fa Oh no, impossibile Ho perso No, non è vero C'è il mondo 7 Tu lo odi Aspetta, no Ah, ok Sono così tentato Nel farmi schiacciare Il blocco Che non dov'era l'uscita segreta Non l'hai trovata Dov'era? Non l'ho già scordata Bene, io l'ho trovata Io l'ho trovata Io l'ho trovata Sono fo' bitch Bene, bene Ti fate per me Dai, raccolgo pure la moneta Per sfottarti Anche se perdo un sacco di tempo Puoi guardare Tanto dovrei rifare Tutto il livello Ora Vero Forza Dani's console We can do it Game over Game over dance Game over dance Per Dani Me l'ho immagino Hai completato il livello In 100 euro Ah, hai visto Tu avrai questo impedimento Che impedimento Tanto Sono a livello delle Nelle Devo rifare il livello Mi volete dire Sì Bene Nah, è impossibile Questa è l'uscita segreta No No Non è giusto Ho vinto Volo delle Paradelle Dette anche Paperelle Ora mi perdo tutto il power up Lo so Dai Ok, tanto questo livello Scorrimento laterale E' facile Dov'era l'uscita segreta Meno male Io l'ho trovata a fortuna Non è vero in realtà Sottutto io Colo che Dani's console Che fate per me Vedete perché mi lamentavo Nei commenti dei suoi video Una memoria schifosa Anch'io se facessi un coso così Cazzeggerei In parole po' Solo che Boh lui non lo fa apposta a perdere vita Quando gioca Io lo farei Lo faccio ancora Per divertimento Tlappa da pappa Bellissimi Questi qui mi hanno messo paura La prima volta che li ho visti I mega banzai bill Che stavano pure il mare E' vera Dov'era Dov'era Oh, mi stanno pievendo vite dal cielo Oh Yes Ok, ora Non l'ho raggiunto Perdo, perdo Non è vero Sono super pro Non, non ho il diritto di perdere Ok, qui mi ricordo Che Ti dice Cado No Non morire Sono vivo Sono Eh, ho perso Ho perso Yes Ci hai fatto No, che perdi tu No, 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 ho perso Ok, dai Dove diamina Era l'uscita segreta Wow, che combazza One app Sono appena entrato da Fuck Sicuramente Sta succedendo Sta succedendo che Lo schermo in basso Sinistra sta vincendo E che Quella specie di immagine Con scritto TGL Sopra È l'immagine più epica del mondo Ok, non voglio salvare Dove era Nuvole di Meringa Bitch Aspetta, era tipo qua sopra L'hai già saltata probabilmente Oh no, sto perdendo tempo Ok, cerchiamo online Te lo dico io dov'è Dov'è Stai in un punto dove devi Dove ci sta una piattaforma Che ti porta in alto Ti devi far portare oltre la porta E sta là E sta ci sta una parete invisibile Ah, sì, me la ricordo Che ti amina perché The Pro Way With the Gamerland Belle le monete nelle bollicine Oh no, ho perso un po' I believe Per camera era scordata È qua Oh no Dai tanto ora perdi C'è tipo a Il castello di Luigi perdi Come no Io per Gamerland Dani non ce la farà mai Vedi come ti vogliono bene I tuoi scritti Gente che nemmeno mi conosce Ti fa per me Tutti i rossi sono Ora vi banno tutti No li banno io Perché nessuno ti fa per te E' ingiusto Vediamo chi bannare per primo The Gamerland Questa tizia di Roma e The Gamerland Oh yes C'è un time out Dani's console Che ci sta Scherzo Il colore è rosso Per chi ti fa The Gamerland E' verde per chi ti fa me A meno che non sei Magari Dani è dal tonico E quindi tutti sono verdi Ma magari, guarda Penso che qui sia finito il livello Combazzo Mostrosa Leggiamo la chat Ok sono giallo però Ah cambio subito Red Tutti red Cambio colore Siamo solo io e Mario 9813 E' sci-ci Io rosso Di nuovo Todd a farmi regali Perché prendo sempre cifre pari Alla fine Un mini Mario E' sci-ci Così S No yes S Sei morto Bitch Bitch Allora facciamo il livello con Yoshi perché l'odoro Altalena sui funghi Ah no non era questo Stupido me No era nel mondo 6 No 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 perso in un modo Eternamente stupido a voglio suicida Basta Ah no ci sta Yoshi qui bellissimo però l'ho saltato Me lo vado a riprendere tanto E' praticamente impossibile che mi superi Non è vero Però voglio mostrare una cosa Posso fare il pro un last play Ha detto che a questo punto serviva obbligatoriamente Yoshi Io sono qui per dimostrarvi il contrario Vedete A chi cavolo sei per dirlo Solo che io non ho detto nulla altrimenti si sarebbe arrabbiato Derp combazza Ho fatto una tripla comba Che tu non hai idea Ok Vedete Dovinate per chi tifo Sei blue quindi non ti fai per nessuno Oh no la chito Bel bel livello per far da scegliere Vabbè adoro la chito Uh uovo uovo di Yoshi fungo Perfetto Smashing gold boy Ah posso No Yoshi non mi morirò mai Ok morto Tant'ora Sì Tant'ora riprendo Ok c'è una buona probabilità che muoio Esatto Proprio per questo Io la icon tu non ce l'hai Guarda visto che tu hai detto che muoio sicuro non morirò Ok vinci Tifo per te Bene non sono morto Es E lui sta morendo con la mia Non è vero Non è vero Ok E visto? Sono un dannato pro Tutti ti fanno danni non è vero Bell'ha detto danis console quindi era per trollarti No guarda Stati imbrogliando Danis console si è messo Aspetta io ero verde Per trollarti vado pure alla casa di Todd Così mi prendo qualche strumento super uber 321 giusto per trollarti Tanto Ok dai ci siamo quasi Vedo troppi rossi Pugliese ho preso 2 Piori Ok bene Avete visto? Ho fatto tutto il mondo Ehm Ehm Due fuori Che diamine Flowers Bene ora che abbiamo trollato Tizio I blu sono altri Andando alla casa di Todd Ora Tutti Bene Ora perderai alla torre degli ascensori No no ne sono quasi sicuro No ci sono il punto del coso Firebrother che tu morivi sempre nel let's play Troppo epico E poi qui ci sta la Roba lì come si chiama Lo strumento uber Che hanno introvuto qui Chiamato Anche P No non è vero Ghianda semplice I believe I can fly Yes mi son salvato Ehm Sto livello non mi piace Non posso fare pro gaming Forse si Ah io l'ho fatto A modo migliore si intenda Oh no Oh forse si vediamo Scommetto che si deve andare di qua Non salta parere Non restierei Fare così Fare così E sono morto Perdi perdi Anzi vinci Ho perso la moneta Eh già un po' un passo Anche se la moneta non serve E' vero abbiamo quasi finito il gioco Incredibilmente Che noia sto punto appunto Sto punto appunto Ah ah Battute Yes mi servirebbe una Un'incorso Detto fatto grazie al gioco What? Noia Sei morto Dimmi che morto Dimmi che morto Stupido Video ritardo Non posso Sei morto Sì non ho visto come Ma è morto Hai bisogno di perdere Noi dovrei recuperare Assolutamente Ho detto guardate se non facevo quei film con boom 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 alla giungla e stavo già da bowser ma non stavo già dalla bowser è impossibile il record mondiale è tipo 44 minuti ok bla bla kamek adoro la battaglia con kamek i nemici dei posto odio ok ti odio più oltre ma si tratta sporta sempre in mario broswick sito trasportava sempre sempre ho perso non è vero posso fare questa azione però no posto certo sto momento sto perdendo tempo che lo colpi perditampo perditampo che c'è stato facendo fish ho fighissime le fiamme di come per rossi e super uber yes allora il livello devo fare il livello a sinistra perchè con la destra a tempo ho colpito due volte in aria e gist con i commenti guardate guardate osservate combo me lo riguarda il streaming perchè una combo epica è stata yes avete visto zero 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 uno zero uno vent'ordici ok danny si trova sull'altalento dei funghi però non ha preso yoshi perchè tanto tiene la piecco e dice fuck you ah non vedo l'ora di fare il livello con pausa e della strada non voglio salvare ok ok ah qui dall'abomation c'era uno scorciatoio per il castello di bp non è vero però non mi ricordo per non farlo usare però la posto la posto la usiamo si ovviamente eh eh però non mi ricordo dove dovrò andare è morto vai vai la kitu ti prego la kitu ti prego ah no caduto peggio ancora dai almeno se al mondo 7 ti ho dato il vantaggio con la casa di todd e col mivers quindi no potevi anche rifiutarli no sono troppo no sennò tutti iniziano a criticarti mentre devo apparire uno stupido giocatore ok mario di fuoco let's kill no penso che potremmo sosta tanto muo per te gli occhi francesco ecco posso guardare tanto c'è la piattaforma rendo che si muove ok attenzione gli occhi chi è stato perso cosa ha perso è morto gli occhi se non capisco ora i vertiti foto di cosa sono tutti diventati verdi tranne danis console e un altro vedi come ti voglio appena se non posso non posso citare facendo oh no vabbè oh bellissime i lucchi i blocchi hai ragione ok porta superata io per tiri io tipo per te si si ho visto daisy thank you non ho preso l'uscita segreta penso di averla già mi sa che se non parlo mi concentro di più leggo ok allora qualche top fa paramparo paramparo si va beh evita paramparo paramparo ecco vedete al primo colpo d'animo c'era feci per l'ex play io l'ho fatto lì non ci può essere uscita segreto eh l'ho persa no aspetta non è vero dimmi che non l'ho persa dimmi che non l'ho persa l'hai persa no non ci credo appunto bene l'ho trovato ero è abbastanza ovvio questo uscita segreto ma che si fa? passaggi segreti beh questa uscita segreta è facilissima come fai a ped a perderla si ma è abbastanza ovvio che ci sta quel blocchino senza what non ho fatto la combo l'ho stupido kamek let's die fai una doppia combo in cielo poi ti potrò ritenere un bravo gamer ok ok ossia due tre colpi in uno cielo oh che diamine ma oh mi sono distratto un attimo perché mi vantavo di aver vinto e sono caduto come un idiota complimenti veramente complimenti sparati castello meccanico di lui ok tanto lo dopo che vedo i tuoi figli mi basta non fare come te no non riesco a colpire un blocco ok ok questo castello lo odia danni perchè viene sempre schiacciato ok a me piace ermo vengo schiacciato giusto così mi trovo il gioco vuoi vedere no ancora no eh ok mi ha trovato oh fiore di ghiaccio flawas 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 com'è che si passa impossibile anche stupido da sop do you know the impossible girl tac tac non c'è il fungo wow che che combo che ho fatto ah ho perso no vabbè tanto poi faremo sta roba su super mario wall della si che ti stracciano di brutto domani ma io non ce l'ho quel gioco vabbè da qualche parte la faremo no no ce l'ho ce l'ho su sulla wii no sulla wii conta non so nemmeno i comandi allora ora farò una cosa che danni ci ha messo un bel po' di volte per farla nella let's play chiaro nella let's play non sono letta le mie let's play sono maschi nel let's play sorry allora ossia prendere questa l'ultima moneta del castello che era morto e io sto per morire ecco sono morto sei contento si ahaha so già 15 vite che perdo a sto cavolo del bello bene tanto tengo il fiore di fuoco di riserva quindi giusto vediamo il pubblico il pubblico muricco marco 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 come un'altra anni a no 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 so chius! chius! super super lupet che il silocco ha fatto la vira migliore del mondo dove non mi schiacciare ok non voglio perdere tempo come ho fatto prima quindi mi metto a fare il pro mi ha trovato ah mi ha trovato di nuovo ok tanto mi basta un fungo per lui ecco ieri ieri stai ancora la torre come un uomo molto molti si blocca il gioco ieri al primo bosch e batto sono stato quattro vabbè non importa no ho un'altra perdita il posto vediamo il fuoco scommetto che è stato i bisogni non è valido va rifatto da ora devi morire a luigi devi morire ok vediamo non tengo fiore di fuoco non vedo l'ora di di stracciarti a super mario world domani 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 si domani in caso niente force wars dipende tanto non piace a nessuno cioè non so a chi piace oh mi ha colpito luigi penso che ora mi batte ok secondo colpo oh no lo dovevo colpire dai ora recupero dici che muoio si ok visto che l'hai detto vuol dire che non mori no mai sono morto e il mario particolare di più all'otto perché c'è tartosso oh uso il mini no lo so cioè lo so mario party di danni preferito l'otto è ovvio troll face allora non lo so io e io ho il 9 io ho giocato solo all'otto al 9 dimmi che non mori io ma sto facendo il se simpaticone assieme a questo qui ok ci sta una chance di vita sia non è questa riprenditi dalla parola è possibile che io non lo per istrano e non sono di volta un dimmi che non mi schiaccio ok non mi ha schiacciato dai e perchè prima mi son distratto ok il tuo il mio unico punto debole è lasciato il mio no cioè si una volta si prima si poi il tuo punto debole io sono io che ti dico file triplo salto ok ce l'ho fatto a quanto pare scena del diamine e chiede l'ho fatto pure io non è che ok il mondo morto vi prometto che non voglio nemmeno una volta di gizia puoi salvare si voglia salvati e tanto ora non so che posso battere un'idrichi quando esce dalla pokeball l'ho l'ho dato che vuole sai che i gusci sono del pokeball ok devo capire quanti giri fa penso tre ne faccio si ne fa tre ok bene quindi uno due e tre 1 2 e tre ok quindi esce qui e io lo frego no fine ti senti onorato ora si i gt sento poche mo ok ok battiamo l'unica navicella di mister pausse l'unica dei figlio tanto gamer land è un pro no io non sono pro cioè mi defini mi definisco un pro no infatti non ti chiami the gamer pro l'endita esatto però diciamo che me la cavo me la cavo meglio di molti altri anche perchè ne so o potrei essere più bravo di chaga con lui ma non so quanto lui sia bravo perchè tu non guardi mai niente non posso guardare tutto non posso stare al pc 24 sono già tanto che guardi me si appunto ringrazio ma perchè io seguo sugli italiani solo se mi accettano gli iscritti ricavoli oh faccio una cosa che danni oh devo togliermi da skype nooo non devo farlo ok mi stavo ah l'ho fatto sono un idiota nooo sono un idiota un idiota un idiota attiva la webcam veloce se mi fai morire per questo ti sparo no la mano di bowser mi evita post ok oh però se lo schermo mi schiaccia ecco qui io sono un livello davanti a te quindi non è molto sai che mi interessa l'ho rimesso console tranquilla oh no devo girare il ped bene no sarà divertentissimo addio adoro altro soprattutto per questo avrei dovuto usare il telecomando oh ah ma è divertente ci sembra che guidi la macchina tipo il we well io so che fai schifo a mario kart 3 io pure è l'unico gioco ma perchè non ci ho giocato poco e quando ero diventato bravo ci ho smesso di giocare ahah chiave inglese non mi prenderai mai vabbè ora ci abbiamo di un solo livello pensa la cosa positiva si almeno c'è più sfida si appunto vedrai quanti fail farai non vedo è bello che sono failing live quindi ah stavo per mi sono salvato e io per guardare la chat sempre ho perso il mio paura ma qui ma qui ci sta abbiamo la froggy coin io 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 frogy e no io frogy coin ma non perderà l'idici come te sì lo so sai come vado si chiara mamma mia sto livello lungo oh la tanta talpa sassina mi capita oh no oh no beh ma ci sta un power up per me ok c'era un tizio su una parte di mario che mi ha detto come si ritrova il vero luigi quindi ora lo so come si trova il vero si perchè l'ultimo che cade l'ho scoperto prima di te cioè ora non sempre c'è anche quello che tira 3 3 3 palle stile 3 ok bowser jr vediamo se così tanto di fatto sta come l'avuta danni che danni si è ucciso ha fatto un sacco di morti a me basta che non muoio ok tu vai avanti tu vuoi yes 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 ti raggiungo ti raggiungo ti raggiungo puggile non mi raggiungi per le cazzi sì ma dalla cassa esce sempre un fiore ieri a tutti i concorrenti g ma prima non ti fa v non ti fa che in arland eh no ma tutti mi odio non sai come traditore hai tradito lui ora poi traditi mi tradire di nuovo ma si tradirai di nuovo ma attenzione l'italiano ehi come è impossibile ok 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 lo sai che mi puoi raggiungere se tengo sfortuna si ma anche senza eh vediamo oh ho accelerato no tanto il lico livello lungo ci metterei un sacco e invece no ehm 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 un glitch no super glitch ok le bobombe sono fighissime ok mori mori pori letto a mani ma come guardate guardate come sono rimasto vivo non interessa nessuno praticamente ho colpito bowser jr e la piattaforma non c'era sotto di mesi creata giusto in tempo si 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 tutte scusa si danis console ti fa per me e anche desi rosa linda desi rosa linda pitch manca pitch where is pitch pitch è nel castello ecco perchè non c'è dai parete camara poi io mi immagino che in realtà bowser non è il nemico di mario dicono ma si facciamo tutta una scena poi tu mi parti così facciamo guadagnare tanti soldi io mi chiedo chiesto no cosa sto dicendo mi dite chi è il tizio sotto andy 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 no non ho ancora capito il denis d di un rase così posso tifarlo bene sono the gamer l'andita la vuoi salvare a scherito che in tanti torre attivare il limo okey castello di picci signori e ho detto che insomma di non morire morirai finire il dopo così okey fossato vulcanico non ricordo nessun livello oh oh no quello come bellissimo con gli asteroidi dove danni è morto se in tutti i miei apparse il fungo anche allo schermo del titolo sei morto ti è comparso un buon anno no 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 asisto che compo vediamo come muore con il fuoco scoperto freddo non sopporto ok vai così cani sono morto mi distratto vai così vai e bellissimo come sono morto perché a parte vabbè sono morto subito dopo il checkpoint quindi ora avrò pazienza perchè comunque tenevo picciato il tasto in avanti e il controllo stic lo tenevo in avanti pertanto non c'è nulla davanti andiamo qui non c'era un'uscita segreta in sto livello oscites ma non è giusto mi ha scerato ma sai quando c'è l'hd di mezzo tutto diventa più difficile stupido hai ragione se riesco a prendere l'uscita segreta sono un pro ecco non l'ho presa ok me la sono cavata e già mi mi che cosa stai perdendo ora che notte più difficile giocare su e c'è più facile giocare con la tv gira nel gamepad è chiaro non ho preso anche se distante c'è la tv in teoria in pratica la scheda posizione se non muori puoi superarmi cioè puoi raggiungermi come almeno non c'è che ho preso l'uscita segreta da stupido che sono stupidi minicumba ma che cosa cosa diamine è successo cosa diamine è successo si la pizza si è bruciata non fa niente la pizza fresca e piena di sedano la vera pizza messicana sapore divino yes una vita extra tata 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 sti cosi me li ricordo da galaxy 2 nel livello di bowser scomma è che qui c'è uno strumento o un fiore di ghiaccio aaaah stupido per il pocos ci sarà o qui ci sta un sito per una buona 2 4 sito di stato 2 4 non ci danno i punti minicum per stato epico 8 mai mai sono morto non ha idea in che modo so che allora al castello di pc non devo morire proprio sono morto danny ok danny non è che nella maniera più stupida del mondo ossia mi sono o schiacciato un blocco e questo blocco si è ok sai ecco necora ecco ecco oh yes mi sento soddisfatto finalmente strano non è ancora finito il livello però io non riesco non ho preso nemmeno l'uscita segreta che tu saprai qual è perchè è facile vabbè è inutile che dici tu saprei qual è finito il display e vabbè ma tu non ti ricordi perchè non ti chiami danny in realtà io sono the gamer danny in realtà danny è lo schermo di sotto puoi dire così scuola 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 la barca ecco 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 ho le belle mie odio e penso che sto per morire per la terza volta vabbè la prima non vale perchè ci stavo guardando ok con l'uscita segreta sperando di non perdere a livello segreto ti posso battere guarda con uscita segreta mi superi io non ho preso ok 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 io sto perdendo a super mario world ti straccerò di brutto morto ho perso di nuovo mamma mia sto morendo che cosa sta succedendo ah trema tutto vai a prendere l'uscita segrete idiota ti do pure consigli no non voglio non voglio per lo considererei barare di fare il livello già fatto ok allora non lo farò nemmeno io se sbaglio ma non sbaglierò ma io ce l'avevo fatto solo che olai corno farmi figlio e tu dai corti pure nelle spiegi cittone no dai non è cittone e se tu la trovi di mano va bene e contatto che ho fatto dieci sei incredibile per falla lo stato aggiungente il figlio tuttavia anche se allora dai 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 no se sentite la voce strane è normale ma non posso farci nulla tu stai al mondo otto uno se sali se sto morendo e tanta talpa mi stanno uccidendo cosa tanto tanto assassina mi ricorda la sfida cosa ti ricorda la sfida che ci stava tanta talpa fino in fondo da odia ecco che sono pronti sono pronto sono morto non posso recuperare posso recuperare io sono morto vincerò da risonsolla guardate guardate quel cuscio si è girato e mi ha trovato ombu compare il tuo manino non imbrogliare uffa lui che la ghiata quindi il semi mi batte ma che si rosa via ho perso si e ho perso no non è ancora detto a meno che non faccio un miracolo ora a meno che io non sbaglio gravemente come hai fatto tu io sono morto tre volte livello 4 in tutto il mondo per ora quindi pensa un po' che tro ok ce l'hai fatto no 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 devo tornare indietro s veloce 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 ok se vi state chiedendo come mai sto filante perchè sto guardando la chat e lo streaming si si tutte scuse per bannare il primo che dice che faccio no no dani hai detto che faccio schifo motivando l'ho sbagliato pure io mo si suicidio si suicidio sarebbe stato meglio dire il vero bene non ho preso l'uscita segreta ecco beh tanto avrei impiegato un sacco di tempo a fare quel livello ma qual'è quello la segreto penso che sia poi è più o meno lo stesso alla salita penso che era quella salita che tu vabbè buona fortuna con le tante talpe visto che a me mi ma vabbè io tengo la scusa del del mai es ok tanta talpe prometto che stavolta non mi prenderete è divertentissimo come la tanta talpa sbatte all'infinito contro un oggetto e si trolla troll face troll face ok mi ha colpito troll face troll face troll face troll face ok 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 cribbio i mini goomba i mini goomba lì li ho uno stavo morendo alla fine mamma mia es trovo il pro gaming mi ha salvato ok ok un bel guscio pronto per voi è un bel fiore di ghiaccio anche hai completato complimenti per aver conto per il peggio testo tranquilli vi dico che il livello di bowser finale io l'ho fatto il primo colpo prendendo tutte e tre le stelle e se facciamo la sfida di batterlo col fuoco ma fa l'abbiamo già fatta ce l'abbiamo fatto tutte e due in senso intendo qualcosa di molto più pro di quella tanto domani continuiamo è bellissima l'idea delle del versos e pensa che l'avevo vista in galaxy cioè avevo visto proprio oggi un video di galaxy che galaxy versus attacchi in su canse vero attacchi in to canse non lo so un tizio con i capelli lunghi sono morto no perchè l'amicizia con me ok le punginelle della patria mi ricordo che questo punto d'animo è morto un sacco di volte vediamo se lo so fare il primo colpo eccomi vediamo se lo so fare il primo colpo sì sì è chiaro dai dai che ti supero sì ho perso sono morto sono morto sono morto sono morto e poi bello che mi compare il mi verso che sta a tre ore con i messaggini dei tizi che muoiono e mi sta bene se sei stupido puoi disattivarlo anche ora il mi verso no non mi va mi sento troppo mi voglio pavoneggiare ti vuoi o what pavoneggiare no sono rimorto sono rimorto si sono rimorto si sono rimorto yes mi sta superando mi sta superando faccio una roba pro stupido mi versi cos'hai fatto mi diverso non mi tradire dai non c'è ancora fatto no 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 c'ero quasi ok perdi 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 sono morto no non è vero però mi sono salvato vabbè dai posso recuperare sei morto si si hai preso il checkpoint ma tanto adesso faccio una roba pro sì io so cosa vuoi fare no 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 meglio se non la faccio tanto è solo la terza moneta la liana dai 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 che lo becco di nuovo a vita vabbè pazienza no 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 la prima volta ci sono crepato in sto punto sei un idiota sono morto odio questo punto è terribile però guardate guardate in lontananza come si vede il castello di pg no no ce lo quasi no no dimmi che morto varic vabbè, ho la mezzeria ah come me sei morto no, di nuovo il tod, di nuovo il tod no, no e lo mi ha dato un fungo, lo strumento che mi serviva grazie guardate impegnandosi al massimo penso che lo si faccia in 50 minuti ah ma non è il livello finale cos'è questo? ah l'ascensore, quello che c'era nella sfida con la P-A-Corn ti ho raggiunto quasi eh si mi hai raggiunto quasi mi manca poco in questo punto tu morivi comunque vedi com'è come sono stato veloce ho perso tempo in quella uscita segreta yes ok ho potevo usare il fungo che mi ha dato tutto odore stupido no o o o o o o o il gumba ubbas il gumba di nuovo il gumba ok la lavagna raggiunto sono sono morto sono morto dimmi avvia tt calma e sangue freddo ci sono soltanto di lato sono ragazzi clienti che i mercanti e sto perdendo sto perdendo e gumba sono dei rompiscatole di livello primo altro che è l'ascensore oh no mi ha raggiunto fa chies ho perso ah no meno male che l'ascensore torna giù perchè se sto andando superfatti sui dai dai che ci sono quasi kama moneta mi è quasi raggiunto ahahah per informazione non devo prendere la moneta stella ok prosegui 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 salve ragazzi mi chiamo è il mio lavoro per vendere pizza a domicilio il mio lavoro non mi piace però sono obbligato a farlo mi piace la pizza oggi si è fissato con la pizza guys non ci posso fare nulla salve sono mario mario de maris vendo cornetti ma perchè ora tutti dicono che balotelli e super mario è una rottura di scatole è una è un plagio ha rotto le scatole sto balotelli ora mi ora mi uccideranno tutti perchè odia il calcio e loro lo amano fino alla morte si strappano il cuore per quello che ho detto però il logo che guardo la tv c'è la tv la scheda acquisition io sono un pubblico io esso oh stavo scivolando per terra ok ascensore c'è per terra per lava una cosa che danni non è riuscito a fare nel let's play è quella che io ho appena fatto ok dai dai non posso perdere ora no 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 perdi io stavo per crepare di un millimetro mi ma 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 boh 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 ho mai rotto le scatole via via ma ma che ford lo scontro finale scontro finale ti maria cosa ti superano questo livello è la cosa più facile del salvere stai non è giusto diamine non è giusto bose giugno ti prego fai cadere che parlare non mi ha mai fatto vedere l'inizio guarda guarda che spiglia anche sto che poi nemmeno una dannata mezzini sto livello o ho fatto quella cosa che si fa solo con forco sono morto camo mario let's go to the to death to death to the castle to the top of the castle scusa ma se io sto giocando mario e tu stai giocando a mario questo vuol dire che non c'è aspetta ma ma vai a cagare vai a cagare vai a cagare vai a cagare ora mi arrabbi basta basta io non è giusto 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 muori 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 ora muori a me dici si che lo faccio solo per te no devi fare il serio lo stavo per morire se devi morire mori seriamente ah grazie ma tu mi stai raggiungendo ma dove sta dov'è che sei scusa ah l'ascensore pensavo allo scontro ma magari guarda tanto perderai a bowser ma io vi spiego come la prima volta che non sapevo come era fatto il livello l'ho fatto il primo colpo prendendo tutte e tre le monete vabbè le tre monete sono una cavolata vabbè ma ok non morire senza sapere né boss né tutto mentre ora che lo so a memoria sto morendo della no non è giusto era un passo dalla vittoria a chi lo dici dai io ci sono arrivato c'è impossibile che perdo e se perdo io sono b guarda v guarda tutti verdi sono tranne pochissimi tanto ormai non posso vincere è chiaro puoi mettere sto da bowser guarda forte luce lo faccio con il fuoco per quanto ci riesco nah non ce la farai mai tieni così ti hai un vantaggio giusto per darti vantaggio giusto io non cp combo come un bowser chi è che banna danni fai schifo vabbè tanto fa un po' finisci ok ok la prima cosa è andata ok mentre che ci sei banna danni fai schifo dove ok in chat si si fatto dai fai schifo chi è così stupido benua ecco a me in quel po' quando l'ascensore sembrava che sto salendo comunque ci abbiamo messo molto cioè io ci ho messo non ho mai fatto così tanti figli non è vero stai imbrogliando da te perché stia al contrario zaccaria zaccaria o ormai 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 land ha vinto rassegnati ciao non è detto dai non è detto ok è detto bellissimo browser burriate ok ho perso il fuoco in 5 secondi ci ho messo a perdere ok però che è stupido che è stupido ok no non sono stupido ho rimontato potevo recuperare ok dai ci sono no penso che muoio voglio fare una cavolata e quindi mi sto per suicidare quindi potresti rimontare no purtroppo non ce l'ho fatto a fare la cavolata però ho perso il power up eh ci sono quasi ci sono quasi vabbè ormai ormai lo raggiungo guarda se se si mi sa che mi raggiungo no ci sta il checkpoint allo scontro finale allora non mi raggiungi cioè se mi raggiungi ci metti sono morto bene sopra il cielo su un fagiolo tans non sei felice che sono morto si perchè ora farò tutto da pro non mi interessa se perdo bello che sta diventando molto competitivo visto che sto filando ogni 3 secondi non porto 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 signori danni mi ha raggiunto incredibile e forse mi tipo vinco all'ultimo momento mi si blocca il gioco è mai sin come ho detto a mesi mesi tanto scommetto da te che se per esempio non hai il fuoco da bowser infatti non me lo sto portando io nemmeno c'è il modo puoi prendere dai che se perdi un'altra volta è fatta si se perdo un altro posto per a me che posso trovare dati non salta mai td spot ma io visto che sono morto ma tu non hai la scena adesso 2 c'è la mia sd dai ora mi impegno non mi sono impegnato fino a mo rendiamo questo finale ok non roviniamo tutto con il progaming da nata tana tata 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 ok tutto puLife noionalan alan 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 hon pava success type forza forza colpiscino disintegra lo es s ho fatto una cosa da super pro impossibile no ok però finito perchè buzzer si è messo in mezzo ok adesso devo fare una cosa ultra 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 pro per finire straveloce ms man se mi colpiscono man se mi colpiscono sepp tolta stessa se mi colpiscono s a tanto vinto 3 2 1 via dai 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 dov'è che va bauzer dai ti prego bauzer col pescello disintegralo non ce la fare obb e sono vedi guarda secondo me per questa battaglia hanno puntato solo per far vedere bauzer in modo figo in hd niente di più ovvio però almeno dai mi piace cioè è brutto che da mario brosfi fanno sempre lo stesso bauzer gran però almeno mi piace che non è la sola il pulsante come in ok mi ha colpito una sua fiamma lo ammetto ok mi ha colpito una sua fiamma lo ammetto ok mi ha colpito una sua fiamma però ho vinto hai vinto si deve interrompere il campo va bene non fa niente aspettiamo te solo culo ma solo culo dai però è stata una bella sfida si se non avessi perso tempo a cercare l'uscita segreta avrei vinto no se non avessi perso tempo a con le tante talpe saremmo arrivati pari alla fine infatti siamo quasi solo che io sono aspetta come che si dice facciamo a chi accoglie più monete nei crediti poi sì basta che mi aspetti sì sì vabbè tanto il numero ne servono no stanza di cristallo metti omo prima dei crediti chiaro vado un po' a dire fa qua da mi fa su mille complimenti per aver completato il livello blasco mette che ora parto credito è incredibile come questo gioco si possa finire in mento di un uomo viva la pizza così fresca figuri come il gelato ben oggi ho fatto tutte quattro ore di interlocuzione non ce la faccio più i vertigini i vertigini capito tanzi che cosa vuol dire colpisce mi esso potrò farla anche con il suo lavoro sui qualche posto sono notato una cosa fichissima della scena finale di pausa che la navetta e che ho su bauze riunio rettrix appena si chiude metto il ben uomo è stata dura è stata dura ok tolgo il timer wow due tacche dai è stato divertente domani cosa facciamo super mario world eh se vuoi il filtro però sarà bruttissimo io dovrò giocare su pinnacos cosa vabbè non fa niente basta che non mi hanno non puoi giocarci su pinnacos mi sa dovevo vedere perchè se attivi il cosa il video su skype si toglie il coro si toglie da pinnacos mi pare che sia una cosa così pure potremmo fare condivisione schermo ma se l'aggando l'emulatore sarebbe brutto ok da inizio visto che mostrei nella scena di bauze riizio prendere le monete no aspetta porta aspetta aspetti dobbiamo fare sta sfida vista di amici chissà qual è il mio record penso 300 qualcosa oh non sei più online perchè non sei online su wii u mi stai prendendo in giro usi un emulatore no wait ah no perchè sono su padella ah giusto padella si ti diametro ma no amici amici si toglie ok ok scommesse si mettetevi mettetevi rossi quelli che appunto pensi no 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 scommesse no domani direttamente no no sulle monete ah ecco vedi e tutti i figli attaccati morto vabbè ma considerate che di che ero indietro recuperato in un attimo perchè lui ha perso cioè pure failato quindi eh partiamo appena ti appare il producer partiamo vai sì sì aspetta perchè record 2000 00 ok possiamo partire ok ho failato già all'inizio non si muove ok e che muoveva tot studio ok no perchè luigi si mette in mezzo giusto un sito quanti minuti sto perdendo io posso usare le teste dei personaggi io posso usare le teste dei personaggi io le teste vabbè anche tu dicevi nel let's play dicevi che Yoshi giallo non compare invece compare sei tu che non lo vedi compare alla fine ecco eccolo compare pure prima troppo di sera ecco se l'ho visto troppe monete troppe monete non ho perso tutte vabbè sei a cento vabbè chissà se è possibile prenderle tutte no no cioè chissà qual è il massimo di monete che si possono prendere come 199 come ci sono 4 0 hai ragione non l'avevo visto 9000 999 eh luigi dammi la tua testa sound effect io uso il tod giallo solo per saltare mi trovo comodo oh quante monete oh no la moneta è difficile guarda controllare no l'ho perso non è tanto vinco cioè penso che no per prendere una moneta ne perde 100 e poi se non riesco nemmeno no non so più saltare no 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 ho perso quante sei? 256 ma magari è pure un po' a fortuna nelle monete attrissa ah ah o 4 5 6 no vabbè 6 no ah cause you bitch wow perchè quando salto oh no le monete tutte quelle belle monete così giallo così tremendamente vabbè a parte che force wars no no non lo possiamo fare lo stesso cioè non lo posso fare lo stesso mi sa vabbè super mario world è quanto due anche di meno durava 15 minuti ma tu lì mi batti perchè non c'è non so allora facciamo gli super mario brosque super mario world 2 no super mario world 2 non ci spieghiamo più potrei se se mi porto se mi guardo velocemente una speed run ossia tu magari ti facciamo tutto forse siamo non lo so tu mario brosque lo ricordi 426 419 ti ho battuto yes no ah si perchè tu stiamo ancora